Come già annunciato nei mesi scorsi, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha optato per un cambio di rotta improvviso nell'impostazione della sua TV. Basta con il trash e i cattivi esempi in televisione. D'ora in poi, i reality del Biscione saranno improntati a toni più moderati e sobri. A essere travolti da questa rivoluzione, anche alcune figure di spicco di Mediaset, silurate a sorpresa, sia volendo Rodriguez che Barbara D'Urso. In queste ore stanno trapelando anche delle clamorose novità su un altro programma di Punta del Biscione, vale a dire Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi. Uomini e Donne è una delle trasmissioni più seguite delle reti Mediaset. Pare che l'amministratore delegato di Mediaset sia ben deciso a fare fuori una figura di spicco del noto David Show della De Filippi. Un altro fulmine a ciel sereno che sta scuotendo nel profondo tutti i fan della nota trasmissione. Protagonisti a tutti gli effetti della trasmissione sono anche i due noti e storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. La nota opinionista viterbese è ben nota per le sue continue intemperanze e per le sue polemiche, che mettono un po' di sano pepe nella trasmissione. Difficile, dopo più di venti anni, immaginare Uomini e Donne senza un personaggio così fumantino e popolare come Tina Cipollari. Eppure, a finire nel mirino di Pier Silvio, pare sia questa volta proprio lei. La sua eccessiva esuberanza non sarebbe affatto gradita al capo di Mediaset, che, almeno per il momento, avrebbe dato mandato alla De Filippi di porre un freno alle intemperanze della Cipollari. Ricordati di iscriverti al canale e di spuntare la campanella per essere sempre informato.